Buongiorno a tutti membri della Galassia del Nord, oggi sul canale Radio Kaio c'è riassunto dal capitolo 332 al 368 del manga di Black Clover. Il capitolo 369 uscirà ufficialmente il 25 dicembre 2023 sulla rivista Jump Giga, ma avremo di spoiler già qualche giorno prima. Ci tengo a dire che questo sarà l'ultimo video riassunto della serie. In realtà non volevo fare nemmeno questo, lo ritenevo già di troppo, visto il lavoro svolto tutto questo tempo, ovvero parlare settimanalmente di ogni capitolo del manga, sviscerandolo facendo teorie, approfondimenti e discussioni varie. Io vi consiglio caldamente, se siete nuovi, di recuperare questi video. Alla fine, data l'assenza del manga per tutti questi mesi, mi è sembrato giusto comunque portare questo riassunto, ma da questo momento in poi non avrebbe senso perché con 4 capitoli l'anno, cioè, alla fine guardatevi quei video lì e avete già bene o male il riassunto. Oltre che ovviamente curiosità, mie considerazioni, eccetera eccetera. Detto ciò, grazie dell'attenzione, vi lascio al video. Lucius Zogratis e Julius Novacrono sono due anime che abitano lo stesso corpo. Una condizione anormale. Lucius, pensando di essere speciale, decise di voler salvare il mondo dalla guerra, dalla morte, dalla carestia e dalla pestilenza, distruggendo gli umani e ricreandoli in una forma perfetta con la combinazione della sua magia con quelle di Vanica, Zenon e Dante, nonché suoi fratelli. Inoltre, Julius e Lucius sono in grado di utilizzare la magia di tempo, grazie al demone Astaroth, con cui in passato Lucius strinse un patto. Un anno e tre mesi dopo la vittoria nel regno di Spade, ci ritroviamo alla capitale di Clover, dove Asta sta per venire promosso di rango. Il ragazzo è sempre più vicino a essere imperatore magico. In quell'occasione, dato che Asta ha ormai 18 anni, decide di dichiarare i suoi sentimenti a sorella Lily per un'ultima volta. Lei puntualmente lo rifiuta, perché lo vede come un familiare e basta. Sul luogo, però, appare anche Lucius Zogratis, che ha l'obiettivo di eliminare Asta, in quanto lo ritiene l'errore nel mondo non avendo alcuna magia. Inizia così un combattimento tra Asta e Lucius. Asta utilizza la Devil Union, concentrandola sul braccio demoniaco per espandere la durata della tecnica da 5 a 10 minuti. Il ragazzo è diventato più forte, ma non è abbastanza per Lucius, che ha assimilato il cuore di Lucifero e ne ha acquisito le capacità. Inoltre, questo può contare sulla magia di tempo e sulla magia di anima, nonché il suo potere naturale. Quest'ultima, con un solo tocco, può modificare corpo, mente e magia di ogni essere vivente ad eccezione di Asta, poiché possiede l'antimagia. Anche Lucius è un portatore demoniaco, esattamente come i suoi fratelli. Tuttavia, con la magia di anima, è stato in grado di purificare quel potere e renderlo da nero a bianco. Lucius usa la magia di anima su sorella Lily, incarnando in lei il potere demoniaco purificato di Belzebù e di conseguenza la sua magia di spazio. Lucius spiega di aver assoggettato i demoni superiori in quell'ultimo anno e ora vuole usare quei poteri per creare i paladini, nonché i suoi umani perfetti. Gli umani veramente felici. Lily dice ad Asta che deve morire e quest'ultimo, colpito da quelle parole, nella mente piuttosto che nel fisico, viene ferito gravemente da Lucius e successivamente dalla magia di spazio di Lily. Ciò accade di fronte a Mimosa, Nero, Noelle e i capitani del regno di Clover, che rimangono scossi dall'avvenimento. Lucius poi si ritira insieme a Lily, annunciando che fra sette giorni da quel momento sarebbe avvenuto il giorno del giudizio, nonché quello dove lui avrebbe raggiunto il suo obiettivo ed avrebbe regnato su tutti come l'imperatore magico assoluto. La morte di Asta rende tutti piuttosto tristi. Yuno, tornato da una missione di indagine su una possibile breccia che collega il mondo demoniaco a quello degli umani, percepisce la notizia e in lui si manifesta il desiderio di sconfiggere Lucius per tutta la sofferenza che ha causato alla sua famiglia di Clover. Allo stesso tempo, dopo che a Lucius giunge la notizia della pericolosità di Yuno, che secondo la testimonianza di Adramelech è stato in grado di sconfiggere in un attimo un grande numero di demoni di alto rango, decide che deve schiacciarlo per il bene del mondo che vuole creare. Yuno inizia così a studiare un modo per contrastare il nemico. Intanto, diversi membri del Toro Nero non credono alla morte di Asta e decidono di andarlo a cercare guidati da Nacht. Noelle viene chiamata da Kaono e Chiato, che le parlano del risveglio di Leviatano, Leviathan, nonché quello che secondo le leggende sarebbe la divinità del mare. Leviatano ha percepito che sta per abbattersi un evento catastrofico sul mondo e dunque si è risvegliato. Il potere della creatura è incontrollabile, tuttavia se un mago qualificato potesse ospitarlo, allora eviterebbe di distruggere il mondo. Noelle è proprio quella che stava cercando e così la ragazza stringe un accordo con Leviatano esattamente come fanno gli spiriti con i maghi, diventando effettivamente la dea del mare delle leggende di cui si parlava nell'arco del Tempio Sottomarino. Mentre tutti pensano che Asta sia morto, lui in realtà era stato teletrasportato in un luogo remoto dalla magia di Lily, che inconsciamente non voleva ucciderlo. Il ragazzo viene soccorso da Ryu, nonché lo Shogun del Sollevante, terra natia del capitano Yami, continente che si trova molto lontano da Clover. Ryu era un amico di Yami ed è sprovvisto di potere magico proprio come Asta, tuttavia può contare sul potere del suo occhio sinistro, che gli fa vedere tutto ciò che succede nel mondo in quel momento, pertanto conosce ogni cosa accaduta. Il titolo dello Shogun, Shogun come volete chiamarlo, è il corrispettivo dell'imperatore magico. Nel Sollevante si usano delle pergamene per compiere magie anziché dei grimori. Lì la magia è detta Yojutsu, mentre il potere magico è detto Yorioku. Sul luogo Asta conosce Ichika Yami, nonché la sorella minore del capitano Yami Sukehiro. Lei fa parte di un gruppo che sta agli ordini dello Shogun chiamato Sette Ryusen, composto da maghi potentissimi. La ragazza sembra odiare il fratello maggiore, poiché a sua detta ha ucciso tutto il loro clan e poi se ne è scappato via. Insieme ai Sette Ryusen, Asta si eserciterà nell'apprendimento dello Zeten, o Scissione Divina. Una tecnica molto potente che consiste nell'accumulare potere magico su una parte del corpo e farlo esplodere tutto in un singolo colpo. Nel caso di Asta, lui però utilizzerà l'antimagia anziché il potere magico. Durante l'allenamento del ragazzo, Lucius ordinerà ai paladini di attaccare il Sollevante, poiché secondo lui il futuro in quella zona si sta destabilizzando, tuttavia non ne conosce le cause. Così Lily viene accompagnata da altri paladini chiamati Hyrule e Hit. Quest'ultimo è proprio l'Hit che abbiamo conosciuto nel primo arco narrativo. Infatti, unendo le magie di anima, carne, ossa e sangue, Lucius può ricreare degli esseri umani. Lo scontro avviene, Hyrule risveglia persino un antico drago a cinque teste che era stato sigillato nel mare del Sollevante anni prima, tingendo le acque di nero. Cinque degli Hyriusen intervengono per affrontare il nemico, ma purtroppo la loro lotta è destinata a concludersi con la sconfitta. Intanto Asta prosegue il suo allenamento insieme a Yosuga e Fugio degli Hyriusen, raggiungendo la conclusione che deve fare a pezzi la convinzione di non poter riuscire a diventare imperatore magico, anche se esiste qualcuno come Lucius, e soprattutto di non poter pensare che Yuno avrebbe fatto meglio di lui. Dopodiché i tre raggiungono gli altri Hyriusen e Asta sconfigge Hyrule con un singolo colpo di Zeten. Successivamente Asta affronta sorella Lily e riesce a sconfiggerla, anche se questa cade in un sonno profondo dopo aver rivelato al ragazzo degli obiettivi di Lucius. Yosuga affronta Hit da solo e lo uccide con un singolo colpo di Zeten con la sua magia di ferro. Asta e gli altri Hyriusen affrontano il drago a cinque teste e sotto la guida di Ryu riescono ad ucciderlo. Ichika ha però scoperto una verità sconcertante durante quello scontro. La magia di Hyrule, ovvero Boogeyman, le ha fatto ricordare le sue paure più sopite, risiedenti nel suo subconscio, ovvero che a compiere il massacro del clan Yami è stata lei e non Sukehiro. Asta decide di aspettare che i suoi compagni del Toro Nero vengano a prenderlo prima del giorno del giudizio e intanto si allenerà ancora. Ed eccoci alla battaglia finale, proprio nel giorno prefissato da Lucius. Questo attacca il regno di Clover affiancato dai suoi paladini. Dalla parte del nemico ci sono lo scienziato Morris, Acer Silva e Morgan Faust, questi ultimi due ricreati con la magia. I cavalieri magici sono in posizione, pronti ad accogliere il nemico. Alcuni dei paladini, definiti angeli dai più ingenui della popolazione nonché i bambini, cercano di uccidere il popolo, ma Yuno difende tutti quanti con uno scudo creato grazie alla sua magia di stelle. Lucius ferisce immediatamente un braccio di William, poi viene sfilato da Yuno. William riconosce in Yuno colui che sarebbe stato più adatto a comandare la sua compagnia, e così lo nomina capitano dell'Alba Dorata. La risposta di Yuno al potere di Lucius è la Manazon Never Neverland, con cui unendo le proprietà della magia di vento di Sylph e della magia di stelle derivata dal suo attributo naturale, potenzia i suoi alleati e depotenzia i suoi nemici. Inoltre nel Neverland il tempo non scorre, e dunque Lucius non può usare la sua magia di tempo per combattere. Tantomeno non funzionano incantesimi che si basano sul tempo. Morgan affronta subito Jack e Yami con la sua magia di luce, e ferisce mortalmente il capitano dell'Amantide Verde, che con un ultimo grande taglio esce di scena contento di aver tagliato la luce divina di Morgan, ma scontento di non aver potuto tagliare l'oscurità di Yami. Successivamente, Sukehiro affronta Morgan, che sfoggia la sua seconda magia derivata dal demone incarnato Lucifugus, e questo potere è proprio l'oscurità. Nonostante la resistenza di Yami, alla fine Morgan gli è superiore e lo ferisce al petto. Morris affronta la compagnia del Leone Cremisi, Mero Leona in particolare. La sua magia è in grado di decomporre tutto ciò che tocca, e per fornire a Mero Leona un'occasione di attacco, i membri del Leone Cremisi si sacrificano uno dopo l'altro, venendo disintegrati dal tocco delle molteplici braccia del nemico. Mero Leona così attacca Morris con il suo miglior Kaelidos Brachium, in modo da onorare e vendicare i caduti. Nel frattempo, Acer se la vede con la compagnia dell'Aquila d'Argento, e sconfigge facilmente anche i suoi figli, che non vogliono affrontare la loro madre. Ad intervenire è Noelle, che sfoggia il suo nuovo potere, Valkyrie Armor Dragonform, derivato dal patto stretto con Leviatano. Essa è anche in compagnia di Chiato e Kaono. Yuno affronta Lucius dando fondo a tutto il suo potere. Se dovesse perdere, Neverland svanirebbe, e sarebbe la fine per tutti. Lucius definisce Yuno il suo rivale, tuttavia per Yuno non è lo stesso, poiché il suo unico rivale sarà sempre e solo Asta. In nessuna delle timeline viste da Lucius, con il suo potere della magia di tempo, i cavalieri magici sarebbero mai stati così forti. Secondo le sue previsioni, sarebbe già dovuta essere finita da un pezzo, tutti quanti sarebbero già dovuti essere stati annientati. Questo è colpa di una presenza che li ha influenzati, Asta, nonché l'errore di quel mondo. Yuno sfera poi un fendente decisivo contro Lucius, uccidendolo. Quello ucciso da Yuno non è il vero Lucius, non è altro che un clone creato con la magia, mentre quello vero si trova in alto nel cielo, comodamente seduto sul suo trono ad osservare la situazione. Diversi cloni di Lucius si mostrano sul campo di battaglia, i cavalieri magici iniziano a perdere colpi, alcuni di loro sono stremati. Mimosa e Marcus avvisano tutti della situazione e chiedono ai cittadini di scappare, mentre i cavalieri magici affronteranno i nemici. Secche dimostra la sua maturità ergendosi di fronte a tutti quanti ed affrontando i nemici a testa alta nonostante la situazione, nonostante il divario di potere. In passato sarebbe sicuramente scappato. Non è ancora finita. È il messaggio che passa per la mente di tutti coloro che stanno combattendo, ispirati dall'ideologia e dalla forza di Asta. A proposito di Asta, i membri del Toro Nero rimanenti lo stanno cercando e in quel momento si trovano alla foresta delle streghe per chiedere aiuto alla regina. Si decide insieme a Dorothy del Pavone di Corallo che lei, Vanessa, la regina e Finral compieranno un incantesimo chiamato Porta del Destino, volto ad incontrare una persona desiderata. Lucius però ha notato che il futuro si stesse destabilizzando proprio in quella zona e dunque ha mandato Damnatio, in versione paladino, a controllare. Il nemico attacca il luogo e compie un massacro riuscendo velocemente a sconfiggere tutti i suoi avversari. Nessuno vuole arrendersi nonostante sia stremato dalla battaglia. Ma il potere di Damnatio, nonché la bilancia e la magia d'atmosfera del demone supremo Baal, sconfigge tutti quanti. Quando tutto sembra perduto, un grido disperato di Nero vede l'arrivo di Asta, accompagnato da Ichika, pronto ad affrontare Damnatio. Asta è ora in grado di proteggersi con l'antimagia e unendo quest'abilità con lo Zetten riesce a sconfiggere Damnatio. Successivamente la regina delle streghe cura i feriti con la sua magia di sangue, ma ciò comporta il sacrificio del suo potere, che diminuisce a tal punto da non poter più essere la regina. Così Dorothy decide che prenderà il suo posto. Successivamente Asta utilizza l'abilità della Demon Dweller e dona la proprietà antimagia a tutti i suoi compagni del Toro Nero, che poi si recano alla capitale per aiutare i loro compagni nella battaglia. Tutti gli scontri sono pronti a giungere al climax.